I'll break your anthem, I don't care what happened, but I ain't got no time to dwell on it Beh salve amiche, come va, come state? Spero tutto bene, sono sempre io la vostra fatta preferita Oggi amiche, perdonatemi se guardo un po' di là, un po' di qua, perché sto registrando questo video col telefono in modalità tipo super super fast Vi spiego super super fast per il semplice fatto che domani, cioè voi vedrete questo video mercoledì Ecco, il giorno dopo però proprio prestissimo, tipo alle 3 del mattino ho l'aereo Quindi praticamente a cavallo di mezzanotte dovrò preparare le cose eccetera E mi son chiesto che video voglio portare alle mie amiche che mi seguono Ribadiamo che amiche, ogni tanto qualcuno me lo chiede ancora, in termine generale, plurale, femminile Che utilizzo per tutte, anche gli amici sono amiche su questo canale E' un po' come James Charles che dice sisters, quindi sorelle anche per i ragazzi Oggi un video amiche, velocissimo, è diverso rispetto a tutti quelli che ho fatto Ma un video che vi avevo già anticipato Però prima di iniziare amiche ho fatto un nuovo piercing, vi ho caricato lo shorts Ma quanto è carino, ovviamente mancano ancora tutte le, come posso dire, i pendagli eccetera Perché sta guarendo, mi fa un male che non vi dico ma è in fase di guarigione Oggi amiche è un video molto particolare, molto veloce perché vi parlerò di quella che è la mia terribile esperienza con il laser alla barba Terribile, non tanto perché non abbia ottenuto i risultati che volevo ottenere Ma perché è giusto, secondo me, fare un video un pochino più esplicativo Questo video l'ho fatto anche sulle altre piattaforme verticali, quindi mi andava di farlo anche qua E vi racconterò un po' tutto il mio percorso, per chi magari stesse guardando questo video per la prima volta Perché quando io cercai dei riferimenti su YouTube o che fossero anche su Google, su qualche form Mi venivano sempre fuori articoli magari di ragazze trans che ovviamente avendo fatto anche un percorso ormonale Sono poi andata a togliere la barba, però non c'è mai stato la testimonianza di un ragazzo come me Sì, normale, che è appunto un ragazzo appunto tranquillo, gay, classico Come possa essere io che dunque non ho affrontato una terapia ormonale eccetera Che ha deciso di rimuovere semplicemente la sua barba Allora amica, partiamo dal presupposto innanzitutto che com'era la mia barba Vi lascio il riferimento qua fotografico La mia barba era una barba prettamente mediterranea, lo sapete io vengo dalla Sardegna È una barba estremamente scura, ricca di, come posso dire, peli Ma soprattutto con uno spessore bello importante Tant'è che io ero completamente verde in quest'area qua, compreso il collo Invece qua era di meno Ovviamente io meditavo la scelta di togliere la mia barba già da quando avevo 18 anni, 20 anni Però con la sincera verità che quando ero in Sardegna Mi è sempre stato detto anche da, non so, i miei parenti, le persone che mi stavano vicine No, ma un ragazzo che si toglie la barba non si è mai visto quando mai, assolutamente no Io però mi sentivo a disagio con la mia barba Posso dire qualcosa che non mi è mai appartenuto Non mi piace, non trovo mica che poi mi stesse bene Cioè la barba io la trovo su di me una cosa orrenda Mi, secondo me, mi dava più anni di quelli che avevo Mi invecchiava, ma soprattutto avendo una pelle particolarmente sensibile Infatti io se faccio così Vedete che divento subito rosso Mi andavo ogni volta a tagliare E infatti vi riporto anche questo aneddoto Quando io, tanti anni fa, ho avuto l'acne Che poi in realtà l'acne io me la sono portata dietro fino a tipo a 2018-2019 Quando ho aperto YouTube L'acne che mi ha lasciato Non so se potete vedere più che questi che sono uvi brufoli Questa parte qua Non so se riuscite a vedere queste piccole macchiette Queste me le ha lasciate l'acne Quando avevo tutta quella barba eccetera Ovviamente passando la lametta ogni giorno non vi dico Perché la mia acne andava da un orecchio all'altro orecchio Era tutto in questa parte, riguardava tutta questa parte qua Quindi passando la lametta non vi dico era uno schifo terribile Inoltre ovviamente anche coprire una barba così scura Essendo così pallido era praticamente impossibile Tant'è che la mia pelle era sempre appunto secca Sempre piena di tagli Sempre una pelle come posso dire molto ruvida E io anche guardandomi allo specchio non mi piacevo Trovavo che mi desse molti piani di quelli che avevo E soprattutto non mi faceva proprio stare a mio agio Mi accavallo praticamente di 2022-2023 Dovrebbe essere circa il periodo di novembre 2022 Se poi magari sbaglio eccetera Vi dico La clinica alla quale io mi sono affidato Clinica che ora non c'è più perché è stata chiusa È stata la clinica di Dr. Charm Che inizialmente aveva la sede in Porta Romana E successivamente poi si sono trasferiti E si erano trasferiti in via Solferino Quindi a Garibaldi per chi è di Milano Io ho iniziato il trattamento da loro Perché? Perché loro trattavano già casi di epilazione sul viso maschile Può sembrarvi magari una cosa A voi che state guardando una cosa normale Dite vabbè un pelo femminile, pelo maschile Sono tanto più peli, più grossi In realtà però qua a Milano io ho faticato a trovare una clinica Che mi dice se è finico ti togliamo il laser Ti togliamo la barba e facciamo il laser al viso Perché? Perché molte cliniche erano proprio contro Dicendo che comunque si era un laser molto forte Ovviamente ora entriamo proprio nel merito e nello specifico del laser Perché poi è questo che vi voglio portare come contenuto E voglio darvi tutte quelle che sono le informazioni In modo tale che voi possiate scegliere la clinica migliore E non fare magari errori che ho fatto io Dopo aver ricercato, ricercato, ricercato Mi affido alla clinica di Dr. Sharm E dove appunto andava già Ale Hilton La conoscerete sicuramente Una youtuber incredibile Ora una tiktoker fantastica Ale, le mando un bacio grande grande E ho iniziato presso il centro di Dr. Sharm Il laser utilizzato è il laser all'alessandrite in quel caso Il laser all'alessandrite per chi non lo sapesse È il più potente al mondo È un laser molto particolare È anche ultra potente Ultra potente amiche Che io sicuramente immaginavo un dolore Ma non mi immaginavo quel tipo di dolore Io sono una persona amiche che ha una soglia del dolore Non alta, di più Ma vi giuro, altissima Cioè io per esempio ho fatto tutti filler eccetera Non ho mai sentito niente Mi hanno operato ora la gamba Non ho sentito nulla Io vi giuro non sento mai nulla, di nulla Però fidatevi Ve lo dico dal cuore Che quel laser alla barba Che facevo da Dr. Sharm Io ricordo ancora perché c'è il video qua su YouTube Della prima seduta Se magari ritrovo un pezzo Ve lo aggiungo qua a fianco Io rimasi sconvolto Perché anche impostato alla minima potenza Mi ricordo che io mi misi a piangere dal dolore E talmente mi fece male Che uscì dalla clinica Con l'addome che mi faceva male Cioè avevo questa voglia di vomitare Incredibile E soprattutto che cosa accadde Che in laser all'alessandrite La mia foto appunto su tutta la barba In una prima seduta Mi ha iniziato a far uscire amiche Un sacco di bolle Proprio come se mi avesse tipo Ustionato la pelle Tant'è che infatti subito dopo Mi gonfiai in modo abbastanza enorme Io vi lascio comunque tutti i riferimenti fotografici In modo tale che possiate valutare voi E capì che non potevo uscire di casa Per almeno 7-10 giorni Quindi ogni volta che facevo il laser Dovevo sapere Che appunto non potevo uscire Per i 7 giorni successivi E che soprattutto non mi avrebbe potuto vedere nessuno Perché mi diventava la faccia una palla Cioè io da qua praticamente in giù Ero gonfissimo La pelle mi faceva male Mi bruciava E non potevo ovviamente fare nulla Guardate che infatti durante la prima seduta Io utilizzai poi il cortisone Per cercare di ritornare Ad avere una sembianza umana Ovviamente però io All'epoca Quando iniziai il laser da dottor Charmo Pensai che fosse normale Avere una cosa del genere Perché comunque la barba era scura Eccetera Poi ho detto il laser più potente E io poiché sono una persona Testarda amica E soprattutto perché non mi piaceva la barba Decisi di continuare In realtà ho fatto poi così 10 sedute circa La cosa che sicuramente mi ha aiutato È applicare sul viso un anestetico L'anestetico però va prescritto generalmente dal medico Io ho trovato invece gli anestetici di TKTX Che vengono utilizzati generalmente per i tatuaggi Sono degli anestetici molto potenti E che possono essere venduti tranquillamente online Li trovate Quindi dopo una o due sedute Senza ho iniziato ad applicare l'anestetico Devo dire che l'anestetico mi ha reso la vita un pochino più facile Quindi mi ha diminuito almeno di un 30% al dolore Che però era tanto forte Quindi ho fatto così 10 sedute Successivamente poi che cosa è successo? Che la clinica di dottor Charm Ha chiuso Devo anche ringraziare comunque il laser all'alessandrite Perché il 70% dei peli che non ho più È grazie all'alessandrite Infatti qua io non ho manco un pelo Grazie all'alessandrite Quindi io sicuramente devo tutto all'oro E vedete che anche il collo è praticamente pulito Ovviamente però io ho dato per scontato Che questo fosse l'unico modo Amica per rimuovere la mia barba Eccetera eccetera Quindi Succede che però a un certo punto Dottor Charm come vi ho detto chiude E quindi ovviamente loro non Cioè non mi hanno detto nulla Mi hanno detto solo L'ho scoperto tramite il post su Instagram Dunque ho dovuto capire In che clinica dovessi A quale clinica dovessi avvicinarmi E attualmente io mi trovo Da Milano Skin Lab Che è una clinica che si trova in San Babila A Milano Scomposta tutta da ragazze Sono molto molto brave E quando io sono andato da loro Mi chiesero Io ovviamente chiesi loro Che laser facevano eccetera Che laser proponessero E mi hanno detto che avevano un laser Che si chiama Alma Supreme Che è basato su tre lunghezze d'onda differenti E ho scoperto tramite loro Che vi do questa informazione Questa qua l'ho scoperta Sia tramite loro Ma anche riguardante un video Dell'estetista cinica I laser Per capire quale è nuovo Rispetto a uno di ultima generazione Rispetto a uno di vecchia generazione Dipende dal manipolo Generalmente quelli con un manipolo Quindi la parte finale Del macchinario molto grande Sono macchinari vecchi E quello che utilizzavano Da Dr. Charm Era così Aveva un manipolo Abbastanza grande Era tipo così Invece il manipolo Che utilizzano loro È più piccolino Perché l'hanno fatto più piccolo Inoltre amiche I nuovi dispositivi Per l'epilazione laser Che vi ripeto Possono essere braccia Gambe Faccia eccetera Hanno un dispositivo Di raffreddamento immediato Del manipolo È gelida Quindi tu lo applichi Ti ghiaccia la zona E poi colpisce Quindi fa questa situazione qua Un'altra informazione Che vi do Per quanto riguarda i laser Che magari Vi può aiutare Nella scelta I laser Ora sono Quelli di nuova generazione Sono a tensione continua Significa che Se voi prendete i laser Voi azionate play Start Mettiamolo in questo modo E poi vi muovete Quello continua a sparare Invece quello che io facevo da Dr. Charm Magari se ho qualche clip Ve lo inserisco Era Faceva così Pam 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 Quindi non era continuo Ma era Andava di zona in zona Ripeto Quando mi sono affidato A Milano Skin Lab Io ero Anche abbastanza preoccupato Vi dico la verità E mi hanno appunto Parlato del loro macchinato Che si chiama Alma Supreme Questo video ovviamente Non è sponsorizzato E ho deciso io di farlo E Alma Supreme Combina praticamente Tre tipologie di laser Quindi abbiamo Alessandrite Abbiamo Oddio Come si chiama Diodo E poi un altro Quindi combina Tre lunghezze Di Come posso dire Laser differenti In modo tale da Colpire meglio il pelo Mettiamolo in questo modo Quindi non è totalmente Alessandrite Ma è un laser mixato Ecco Devo dirvi la sincera verità Che per me Il tutto è cambiato Da così No anzi Da così A così E allora Ci sono delle cose da dire Innanzitutto Il laser che faccio Ora Non fa male Amiche vi giuro Non sento praticamente Niente Vi lascio una clip Io chiacchiero tranquillamente Con la ragazza Che me lo fa E non sento Praticamente nulla No non sento nulla Niente Ah ma lo sai Che io sono resistente Qua Qua c'è una resistenza Ormai di anni Una pelle granitica Al contempo Vi posso dire Che Il fatto di non sentire nulla A me Durante la prima seduta Mi ha preoccupato tanto Perché ho detto Io non ho sentito nulla Durante la seduta Ma allora effettivamente Funzionerà il laser Che mi hanno fatto Oppure no Che ve lo posso dire Sulla mia pelle Assolutamente si Funziona Quindi nel caso Vi dovesse capitare Che in un centro Utilizzino l'alma supreme Ve lo dice la vostra fatta Che l'ha provato Su di me Funziona da dio L'alma supreme Per quanto riguarda Poi Altre informazioni Vi dico che Il laser all'alessandrite Sicuramente Va a togliere Il laser puro Con alessandrite Non andrebbe utilizzato Sul viso Questa è un'informazione Che mi hanno dato al centro Perché il laser puro All'alessandrite Generalmente viene utilizzato Per quelle zone Un pochino più ostiche Magari tipo qua Che ci sono alcuni ragazzi Che hanno le spalle Un pochino più pelose Oppure viene utilizzato Magari non so Per la zona qua Cioè delle zone Un pochino più dure Ecco Dove Anche se il macchinario Ha una potenza Molto alta Puoi resistere Non sicuramente il viso Il viso è una zona Molto delicata Infatti mi hanno detto Sei stato molto bravo Anche con la protezione solare Eccetera Perché c'era il rischio Che ti venissero fuori In macchina Infatti io mi ungevo Proprio che voi Non avete idea Di protezione solare Altre cose che mi piacciono Di questo laser Invece che faccio ora L'alma supreme Sono che può essere utilizzato Anche su incarnati scuri Quindi infatti Ci sono anche Sul loro profilo instagram Un sacco di ragazze nere Che fanno il laser Senza problemi Potrei non mettere La protezione solare Dopo Perché non è Fotosensibilizzante Infatti si può utilizzare Anche d'estate Ma soprattutto Vi ripeto È praticamente indolore Ora vi dico Che siamo quasi Alla potenza massima Quindi si sente Sarei ingenuo E vi mentirei Se vi dicessi No Non si sente In realtà Si sente Soprattutto qua Ecco Si sente Devo dire anche La sincera onesta verità Quello all'alessandrite In 10 sedute Mi ha annientato Praticamente il 60% Della barba Questo qua Di laser L'alma supreme C'è bisogno Di fare un pochino Più di sedute Dunque vi dico Se voi dovete fare Avete intenzione Di fare il laser Al viso Perché siete dei ragazzi Oppure siete delle ragazze Che soffrite Di irsutismo Che può succedere Vi dico Capite un po' Voi anche in base Alla vostra situazione Economica Io Mi riguarda Preferisco fare 20 sedute Con l'alma supreme Non soffrendo Perché poi ecco Una cosa che mi sono Dimenticato di dire Con il laser che faccio ora Io mi posso truccare Subito dopo Perché non mi arrossa Non mi gonfia Cioè io finisco la seduta E sono leggermente arrosso Soprattutto quei laterali Però il tempo di Prendere la metropolitana Tornare a casa Che ci vogliono Cercare un 15-20 minuti Io non sono più rosso Non mi dà problemi Proprio di gonfiore Di nessun tipo Non mi fa male Vi ripeto Io mi posso truccare subito Non c'è assolutamente Nessun problema Quindi vi dicevo Ponderate bene La scelta del laser Che volete utilizzare Vi dico Andate a vedere In diversi centri Le opzioni Le opzioni Le opzioni che vi propongono Quello che vi posso dire Per esperienza personale È Preferisco fare 20 sedute Con l'alma supreme E quindi metterci Un pochino più di tempo Piuttosto che fare 10 sedute Con l'alessandrite Tutto però È una questione Relativa È una questione Personale Perché ci sono Vi ripeto Persone che magari Dicono Io non lo so Non ho grande disponibilità Economica Magari mi faccio 10 sedute Col pure alessandrite Mi devasto il viso Però almeno Più soldi Nel portafoglio Altre persone che dicono Almeno non mi importa Preferisco farne 20 Quindi 10 in più Però essere easy Quindi questa è una Una scelta Totalmente vostra Inoltre vi aggiungo Anche questo plus Io sapete che sto facendo Il laser al viso Per quanto riguarda Anche i rossori Faccio il laser Alla barba Dopo due settimane Faccio il laser al viso Dopo altre due settimane Faccio il laser alla barba Più o meno è così Quando sono andato A fare il laser al viso Se volete Magari vi faccio Anche un video Dedicato al laser al viso Che sto facendo Per togliere Tutti i rossori Cuperose Eccetera eccetera Magari quello Vi può interessare Maggiormente Mi è stato detto Nella clinica Che loro utilizzano Alessandrite Pura Però Con Un nuovo macchinario Che quindi Anche il sistema Di raffreddamento Quindi mi ha detto Sì È vero L'alessandrite Fa male Perché fa male Però noi Avendo un nuovo macchinario Con un sistema Di raffreddamento Nuovo È sopportabile Quindi forse Magari sono stato Io sfigato Nella clinica Di dottor Sharma Anche perché Io sono andato Nella clinica Di dottor Sharma Per neanche un anno Vi ripeto Ho fatto Dieci sedute 12 sedute E poi hanno chiuso Quindi forse Anche loro Dicevano Magari Non lo so Non voglio cambiare La lente Al macchinario Perché tanto Stiamo per chiudere Non lo so È un pensiero Che io sto avendo In questo momento Io comunque Li ringrazio Perché Comunque mi sono sempre Trovato bene Nel senso che Loro sono sempre Stati molto gentili Con me Però Proprio Siccome posso fare Ora due paragoni Con due laser diversi Ve li voglio portare Perché magari C'è qualcuno A cui può interessare O qualcuno Che incappa nel video Magari questo video Lo vedranno Dieci persone O magari lo vedranno Non so Ventimila Cinquantamila Però Sempre è meglio farlo Perché Proprio lo faccio Dal cuore Per aiutare Un'altra persona Che è come me Perché quando io Ricercavo Queste tipologie Di contenuti Non c'era nessuno Che me li faceva Non c'era nessuno Che mi spiegasse Il nulla Per quanto riguarda I costi Dipende da posto a posto Dipende da zona a zona E molte volte Ci sono anche i pacchetti Mi avvicino Per farvi vedere Anche la mia barba Come potete vedere Qua Io non ho più nulla Cioè qua Io non ho nulla Di niente Qua mi è rimasto Un piccolo cerchietto Ma perché c'è Un neo Vicino E quindi Non è possibile Spararlo più di tanto Bisogna andare cauti Perché altrimenti C'è il rischio Che mi si Irriti Anche qua Sempre è una zona Basette Tutto a posto Qua è rimasto Come potete vedere Un pochino L'alone Perché qua Il centro Non è più Vedete che qua Sono libero Ne un po' In questa fascia Qua E anche qua Anche il mento Come vedete È abbastanza libero Non c'è quasi più nulla Devo dire Che io Sono felicissimo Cioè Anche solo Essere arrivato Qua Va bene In tutto Quante sedute Avrò fatto Dieci Dodici Di Alessandrite E ora Allora Ho fatto una Mi pare di averne fatta una Ottobre Novembre No Dicembre Gennaio Forse Quindi Tredici In tutto Dieci Alle Alessandrite Tre Con l'alma Devo dire Che mi trovo Molto Molto bene E vi ripeto La cosa che mi piace Di più È che io Termino la seduta Torno a casa E potrei Posso truccarmi Tranquillamente Ovviamente Mettete in conto Che vi si Screpolerà La pelle Cioè Ecco Questa è una cosa Che mi sono dimenticato Di dire in precedenza Il laser All'alessandrite Quando io facevo Quello curo Mi toglieva Proprio la pelle Cioè Mi andava via La pelle Come un serpente In questo caso Quello che può succedere È leggermente Magari che si Screpoli Però non mi è mai Andata via la pelle Assolutamente È necessario Però fare una Buona idratazione Una buona Skincare Bella Idratante Eccetera Detto questo Non penso di avere Nulla da dirvi Amiche mie Ci vediamo Con il video Di sabato Che vi piacerà Un botto Perché Amiche Sto per partire Nuovamente Non vedo l'ora I'm so happy Non vedo l'ora Di portarvi Anche quest'anno In viaggio con me E Chissà se qualcuno Indovinera la meta Vi dico solo Che c'è freddino Non Non uscirò Dall'Europa C'è un po' freddino Però Nel posto in cui sto andando E ci sono già stato Nove anni fa Amiche Nove anni fa Non ero sui social Ero un classico ragazzo Delle superiori A cui piaceva Una cosa La scoprirete Però solamente Guardando il vlog Detto questo Io vi mando Un bacio grande grande E spero che con questo video Vi abbia aiutato Fatemi sapere voi Che cosa ne pensate Qua sotto Ciao Ciao